Qualcuno usa il web per offendere, aggredire, disturbare, ma tu puoi dire no agli insulti sui social, no all'isolamento nei forum, no al razzismo nelle chat, no alla violenza nei blog e no alle minacce in rete. Fai di internet un posto migliore. Usa internet col cuore, no all'odio, no all'intolleranza sul web. In rete le parole possono essere armi ed essere usate per aggredire, minacciare o per isolare, ma la rete è libertà d'espressione, condivisione, partecipazione. Grazie al tuo blog, ai tuoi social, ai tuoi forum, fai di internet un posto migliore. Usa internet col cuore, no all'odio, no all'intolleranza sul web. Qualcuno usa il web per insultare, aggredire, minacciare. E al via libera perché la rete spesso è anonima, ma pericolosa per chi ne è vittima. Puoi dire stop a tutto questo, con i tuoi blog, i tuoi social, i tuoi forum. Fai di internet un posto migliore. Usa internet col cuore, no all'odio, no all'intolleranza sul web. Grazie a tutti.